Perché il passato non ci insegna niente? Intanto bisogna vedere gli insegnanti di queste ragazze se sapevano e se hanno insegnato. Perché guardate, già Gramsci diceva, la storia è maestra di vita, mancano gli scolari. Io dico, mancano gli insegnanti per gli scolari. Ugo Caffaz, antropologo e membro della comunità ebraica di Firenze. Si spiega così l'aggressione antisemita subita dal bimbo dodicenne nel giardino di Venturina. Alla vigilia del 77esimo anniversario dell'ingresso dell'Armata Rossa nel campo di concentramento di Auschwitz, che rivelò al mondo nel 1945 l'orrore della Shoah, è profondo lo sconcerto. Chi dimentica il proprio passato è destinato a riviverlo, diceva Primo Levi. Un monito che, evidentemente, rischia di restare inascoltato, soprattutto se la scuola non riesce a coltivare la memoria. C'è un'ignoranza di dire colpevole e dire poco. È un assassino, è una cosa non controllabile. L'arrivo del treno della memoria al campo di concentramento di Auschwitz quest'anno, causa Covid, sarà solo virtuale. Partenza e arrivo al Teatro della Compagnia questo 27 gennaio. Un'occasione l'ennesima per riflettere sul nostro passato, condannando con fermezza l'antisemitismo, soprattutto se sono i giovani i protagonisti negativo. Insieme al presidente Gianni abbiamo voluto condannare con fermezza quanto accaduto, perché io credo sia davvero inaccettabile che un bambino, un ragazzino, possa essere discriminato, deriso, offeso per la propria fede. Anche per l'ignoranza e l'antisemitismo esisterebbe un vaccino. Crediamo che il vaccino più potente sia proprio coltivare la memoria. Grazie.